Scontro! Squadra Alpha! Restate uniti, squadra! In testa! In testa! struo! Oh Grazie a tutti. Comando perso. Prima posizione. 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 Grazie a tutti Non è una lotta, è un massacro Grazie a tutti Ben fatto Il tuo talento sul campo è stato fondamentale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti